Pianti è un'azienda che ho fondato appunto oltre 30 anni fa, ci occupiamo di system integration in genere e di sviluppo di nuovi mercati e nuove tecnologie. La nostra capacità di essere business developer di mercati innovativi ci fa naturalmente essere presenti in uno scenario di creazione di nuovo mercato come può essere quello dei droni. Le partnership con i partner di Strada E ci permettono di essere dei precursori anche perché abbiamo già iniziato a lavorare negli ultimi due anni sulla creazione come advisor di un offering completo che spazia 360 gradi sia nei sistemi di protezione dei droni, scusate, sia per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio. La naturale integrazione che noi abbiamo con i nostri partner ci permette oggi di essere presenti a questo evento per raccontare quelli che sono le nostre proposte e anche per contattare direttamente utenti finali che soprattutto per noi sono il settore della difesa, le forze dell'ordine e aziende nel settore energetico e corpore.